Allora, governi gialloverdi, giallorossi, giallotutto con Draghi, due sole costanti questi tre anni molto pazzi, 5 stelle sempre al governo e Matteo Renzi che dà le carte. Quindi ho detto stamattina, lei è diventato il grande vecchio della politica italiana, però è un po' giovane che fa il grande vecchio, ha 46 anni? Io ho da un lato una grande amarezza e dall'altro una grande gioia nel vedere queste immagini. Le dico prima la gioia. La gioia è che quelli che erano partiti per buttar giù l'Europa, usciamo dall'euro, sono tutti lì che stanno dentro il governo guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, già presidente della Banca Centrale Europea. Cioè sono nati populisti e hai visto che adesso sono diventati tutti europeisti. Questa è l'unica grande gioia che ho. Dall'altro un po' di amarezza c'è e sa qual è l'amarezza? Che se noi avevamo sognato, il nostro sogno era quello di avere un modello dell'alternanza. Uno vota come succede in America, come succede in Francia, come succede per i sindaci. Voti Merlino contro Renzi, vince Merlino. Bene, cinque anni di governo Merlino e Renzi all'opposizione. E poi se i cittadini vogliono si cambia. Questo modello era la base del referendum che purtroppo ho perso. E' fallito. Però lei con un piccolissimo partito può dare le carte. E questo è un concetto, guardi strano. Cioè paradossalmente contano di più le realtà parlamentari che non le scelte. La Nemesi di Renzi. Io avrei voluto tutto un altro sistema. E il paradosso è che quelli che quel sistema non hanno voluto, cioè tutti gli altri, oggi si trovano a cambiare posizione su tutto. Insomma, i Cinque Stelle sono imbarazzanti. Hanno cambiato posizione sulle Olimpiadi, sulla TAP, sulla TAV. Adesso ha visto che Di Maio ha chiesto scusa sulla giustizia. Eh beh, è una cosa che deve farle piacere. Eh ma certo, io se Di Maio ha dei tempi di reazione di cinque anni, io sono convinto che tra cinque anni ci diranno scusa anche per averci attaccato sul passaggio Conte Draghi, che invece è stata una cosa utile al paese. Scusi, l'ha letta l'intervista di oggi di Conte al Corriere della Sera, dice molte cose, sembrava un po' il Veltroni, il Manche, perché lui può parlare ai moderati, vuole tornare all'anima però dei Cinque Stelle. Cioè, mi dica una cosa, intanto lei parla chiaro a questo grande pregio, lo devo dire Matteo Renzi, parla chiaro. Conte è il fisico per diventare il partito o era soltanto bravo a fare il mediatore a Palazzo Chigi? Ce la può fare? Se lei dice sembrava Veltroni, non so se Veltroni si offende e querela, questo dipende da Veltroni perché era una battuta. Non lo so, è uno dei temi che in questo momento mi interessa meno in assoluto. Conte? Beh, capire se Conte ha un futuro o no come leader politico. Se i cittadini lo voteranno, si Conte ha fatto una grande operazione di immagine sulla sua persona. Lei ricorderà quando c'erano le dirette Facebook, la RAI metteva l'indicazione della pagina personale di Giuseppe Conte per fargli avere i like, i mi piace, ha fatto tutta un'operazione su di sé. Quindi che era una RAI asservita? Una RAI assolutamente impegnata a sostenere in quel momento lo sforzo di comunicazione del governo, solo che anziché andare sui canali istituzionali... andava sui canali privati, certo, ma infatti ha mai sentito allora una mia polemica su questo? Ho semplicemente detto oggi a lei che Conte ha una base molto forte di like che ha ricevuto in questi mesi. Cioè si è gonfiato un po'. Allora, si è gonfiato, sembrano steroidi, però io penso che sinceramente che il Movimento 5 Stelle sia finito. e che Conte non lo salverà. Quindi ma le 5 Stelle è tu leader Di Maio o Conte? Non l'interessa proprio. E' questo fatto che dice oggi il messaggero che potrebbe staccare la spina il 3 di agosto per poter poi andare alle elezioni appena finire. A. Al governo Draghi la spina non la stacca nessuno. Primo punto. B. Alle elezioni si va nel 2023. C. Conte faccia quello che crede, è suo diritto costituzionalmente garantito di scegliere le cose su cui impostare il futuro dei 5 Stelle. Io penso che questi anni abbiano dimostrato che i 5 Stelle... Però il dilemma ha fatto due previsioni, dato che ci azzecca di solito in politica. A proposito del grande vecchio, le dico una cosa, scusi, ma c'è un a meno che però. A meno che si arriva al 2023 perché Draghi va al Quirinale. Se Draghi va al Quirinale, anzi mi dica lei, ha fatto il grande vecchio pure con Mattarella, faccio quel premio dall'epoca, con Mattarella, ce lo mandò lei a Mattarella, c'era un accordo con Amato, con Berlusconi, lei cambiò idea, mandò Mattarella. Allora mi dica oggi che andrà al posto di Mattarella al Quirinale. Ah, non è vero che abbiamo cambiato idea l'altra volta. L'altra volta abbiamo cercato di costruire una maggioranza e sono felicissimo che oggi Mattarella, che è stato eletto dal Parlamento, non da me, e Draghi, che è stato scelto da Mattarella, siano le due personalità più amate nel paese. A me fa un po' sorridere quando mi dicono ah, però tu sei odiato da tutti. Bene, però le scelte che tutti insieme, anch'io ho contribuito a fare, che noi abbiamo fatto, sono scelte che agli italiani piacciono. Questo è un fatto positivo. Invece, rispetto al futuro, è ancora presto. Mancano sette mesi. Il presidente si chiama Mattarella e ha il diritto di essere considerato fino all'ultimo giorno nella pienezza dei suoi poteri. Poi, quando finirà il mandato di Mattarella... Lei ce l'ha un desiderata? Vorrebbe vedere Draghi, Arquirinali o vorrebbe... Io penso che l'ultima cosa da fare sia il totonomi. Io vorrei un presidente della Repubblica europeista e quindi per questo a un certo punto abbiamo detto no all'operazione Salvini che aveva preannunciato al papete e no a chi come Zingaretti voleva andare a votare per regalare il paese a Salvini. Questo è il motivo per cui abbiamo detto di no. E meno male che abbiamo detto di no. E dall'altro lato dico che, secondo me, il presidente della Repubblica sarà comunque una espressione importante della storia italiana in linea con l'atlantismo, quindi per gli americani e per l'Europa. Insieme agli americani. Sembra Berlusconi il presidente della Repubblica, fa detta così. Ora, mi sembra che stia un pochino esagerando. Poi torniamo. Mi consente. Torniamo, torniamo. Renzi, nel cielo della politica la confusione è grande, quindi la situazione mi pare capire di eccellente, che è eccellente, specie per uno come lei che è vivace, come dice tutto Corona. Allora, Conte non l'appassiona. Quello che accade nel centro-destra la sta appassionando? Io penso che con Draghi è come se all'improvviso fosse entrato una sorta di metti in pausa, quando avevamo i vecchi videoregistratori che si metteva in pausa e poi si ripartiva dopo un po'. O, se vuole una metafora del Gran Premio, è la safety car, cioè quando c'è stato un incidente e le macchine si rimettono in fila. Secondo me da qui al 2023 cambierà tutto. Cambierà tutto. Nel Movimento 5 Stelle, e le ho detto che secondo me sono finiti, nel centro-destra, già adesso stanno iniziando un po' a riposizionarsi, Salvini e Berlusconi, la Meloni all'altra parte. Francisti tipo Carfagna, tipo Germini, potrebbero guardare un'alleanza con lei? Ma ci sono due anni, è tutto da vedere. Io penso che Mara Carfagna possa fare un bel lavoro come ministro del Mezzogiorno. Ci sono molte risorse da spendere, la vedo molto determinata su questo, e faccio il tifo per lei, come il tifo per tutti gli altri ministri. Maria Stella Gelmini, idem nel Ministero degli Affari Regionali. Queste persone che hanno una responsabilità, sanno benissimo oggi che se il governo Draghi va bene, è un film. Se il governo Draghi non va bene, è un altro film. Quindi lei mi dice che il discrimine è stare davvero con Draghi. Beh, insomma, la differenza dove la vediamo? Facciamo un esempio. La Meloni ha fatto tutta la scommessa sul dire Draghi fallirà, e lei sta all'opposizione. Siccome la Meloni è furba, se ne è accorta che le cose invece stanno cambiando, che con Draghi l'economia ripartirà più velocemente, e infatti già adesso ha visto, inizia a andare... È più amichevole con Draghi. È più amichevole con Draghi. Perché la differenza di questi due anni... Ma scusi, per lo scommessa vini si mettono insieme per fregarla, per non mandarla a Palazzo Chigi? No, ma... Boh, io a Palazzo Chigi la Meloni non è che ce la vedo così. Insomma, Meloni ha... È da 15 anni la Meloni che è in politica. Però cresce, ha visto i sondaggi. Ma anche lì, i sondaggi, non dovrei dirlo io, ma i sondaggi vanno e vengono. Cioè... L'uomo del 40% di sondaggi. Ne sono un esperto, quello non era un sondaggio, quello era l'unica dato vero, elettorale, perché il 40% poi non l'ha preso più nessuno. Il problema è che se noi guardiamo... Allora, facciamo un esempio. Magia. All'improvviso torniamo al 2020. E qui troviamo dei sondaggi che danno conto irraggiungibile per tutti. Nel 2019 Salvini è irraggiungibile per tutti. Si ricorda che disse D'Alema, il più impopolare degli italiani che vogliono mandare a casa è il più popolare. Era lei il più popolare. È l'inizio del mio nuovo libro. Partirà proprio da questa frase. Come può il più impopolare mandare a casa... Uno all'anno ormai, se no non assomiglia a uno vespa. Esatto. Come dire, gli stessi nei e qualche libro in meno. Ma come senti da? Il libro si chiama Controcorrente, però la cosa divertente per me è che chi dice che la politica si fa soltanto sul fatto di essere popolare ha un'idea della politica come se fosse... Si ricorda quella vecchia pubblicità della Scavolini, la più amata dagli italiani? Ora, chiediamo scusa alla Scavolini per il paragone con D'Alema. La Scavolini è una cosa seria. Ma non dire così. La Scavolini è una cosa seria. La cucina più amata dagli italiani. Beh, se lei mi dice tra la Scavolini e D'Alema, io voto la Scavolini tutta la vita. Sa chi scegliere. Però, ma non solo per motivi, diciamo, culinari. Qual è il punto? Il punto è che non è semplicemente l'essere più popolare che fa la differenza. Perché se dovessi guardare i sondaggi, nel 20 c'era Conte, nel 19 c'era Salvini, nel 18 c'era Di Maio, nel 17 Gentiloni, nel 16 io... La verità è che far politica non è guardare i sondaggi, ma guardare i posti di lavoro. Lei prima ha fatto un bellissimo servizio sui posti di lavoro, sul fatto, c'era il mio amico Aldo Cursano della Fipe di Firenze, che non si trovano le persone per lavorare perché ci sono troppi che vivono di sussidi, perché abbiamo tante aziende in crisi, ma anche tante aziende che possono ripartire. Abbiamo pure i casi, Noemi, però dei giovani che vengono strasfruttati. Quelli ce li siamo un po' scordati. E anche questo è un tema enorme, perché poi noi dobbiamo fare un investimento su quelle generazioni, la generazione di Noemi che abbiamo sentito prima, per riuscire a portarli nel mondo nuovo. Leggevo stamattina un'intervista molto bella di un esperto, di un professore che non conoscevo, che adesso è un italiano, ma insegna nel Regno Unito, che spiegava come l'intelligenza artificiale e i robot costruiranno posti di lavoro. Cioè, con l'intelligenza artificiale e i robot ci saranno posti di lavoro diversi. Quindi noi dobbiamo essere capaci di sognare all'elaborazione del sondaggio, non gli piace i sondaggi, ma a me mi divertiva quell'elaborazione. Abbiamo fatto un'elaborazione di un paio di sondaggi, perché la destra assieme, 48%, la sinistra con 5 stelle, sinistra italiana, articolo V1, Verdi, arriva a 41,7, e lei con Calenda e Bonino arriva al 7,6. Prima cosa potreste diventare una cosa sola? è chiedersi oggi che cosa avverrà nel 2023 e come dire oggi se lei tra due anni va a sciare a Ortisei o a Cervinia. È sicuro? Non vado perché sono sempre qua. Ho capito. Se il caro la sfrutta lo dichiaro, però battute a parte. È così. È troppo presto, è prematuro, il mondo cambia. Parliamo di cose che interessano oggi agli italiani. Finalmente, con 600.000 vaccini al giorno, si riparte. Sta arrivando un boom economico. Ora mi diranno che io sono il solito ottimista. È così. Sta arrivando il boom economico in tutto il mondo. Non è preoccupato del blocco dei licenziamenti, sì o no? La rabbia sociale, ha detto Landini, la rabbia sociale monta nel paese. Guardi, con tutto il rispetto per Maurizio Landini, io penso che nel paese ci sia una gigantesca speranza che è quella di levarsi le mascherine, di tornare a vivere, di sorridere, di riguardare il sorriso delle altre persone, di riabbracciarsi, di tornare ad essere come eravamo prima, normali. In questo sforzo, se noi diamo alle aziende che possono investire la possibilità di farlo abbassando un po' le tasse, il problema non saranno i licenziamenti, ma le assunzioni e ancora oggi già si fa fatica a trovare alcune persone. Speriamo sia vero. Senta, in tutto questo non mi ha detto nulla del PD di Letta, nel senso che Letta tiene molto l'alleanza con i Cinque Stelle, sta spostando il partito a sinistra, ha fatto tutte le battaglie molto di sinistra finora. Questo per lei che cos'è? È un'occasione perché il centro rimane più scoperto per uno spazio per lei o invece è un problema per le alleanze, penso anche alle alleanze nelle città, insomma lei ha bisogno degli alleati perché è piccino. Nelle città è un film a parte perché secondo me si sceglie il sindaco, cioè se io fossi romano voterei Calenda, se io fossi, poi si può discutere a Milano, Sala, insomma nelle varie città ognuno vota sulla base delle valutazioni che fa sul candidato sindaco. Sulla questione che lei pone molto giusta invece di politica, vediamo che cosa vorrà fare il PD, dipende da loro, a me non ha convinto quando Enrico Letta ha chiesto di aumentare le tasse. Dice ma no, soltanto a quelli... Però vuol pensare ai giovani e poi dice per una cosa importante, dice l'ha fatto anche Biden, l'1% dai ricchi ai poveri, l'ha fatto Biden in America, lei Biden è così amico. No, no, fermi un attimo, fermi un attimo. Tutte le volte che si parte con questa storia che lo fanno gli americani, io le dico, bene, in Italia la tassa è al 44%, in America al 26%. Ora, capisce che è un pochino diverso? No, perché questa storia che mi continua a dire evviva gli americani che alzano le tasse a quelli che hanno... Ma non pagano il 44%, pagano il 26%. Però posso dire una cosa, forse tramite le tasse lo capisco, però io trovo che questo signore qui ha aperto un dibattito sui giovani che nessuno aveva aperto. Forse benvena. Guardi, io sono molto contento del dibattito sui giovani e non soltanto sui giovani. Dico soltanto che sulle tasse l'elemento di scontro tra me e Letta è precedente allo stai sereno. Cioè, la gente pensa che io e Enrico perché viene bene... La buttano pure da Palazzo Chigio in una frase. Guardi, lei sa, ne abbiamo già parlato, che quella fu una decisione presa dal Partito Democratico proposta e ricordata la minoranza. Mi interessa. Ormai sono passati secoli. Però c'è un punto. Già allora c'era una divisione tra loro e noi. Tra lui e me. Perché lui nell'ottobre del 2013 non se lo ricorda nessuno. Alzò l'IVA. L'IVA è aumentata per l'ultima volta in Italia dal 21 al 22%. E io ero contrario. Altro che stai sereno è una discussione sulle tasse che ci portò alla divisione. Bene. Te lo chiederò quando viene la ricostruzione. No, basta che guardi la gazzetta ufficiale. Primo ottobre del 2013 l'IVA va dal 21 al 22 governo Letta. Qual è il punto fondamentale? C'è una sinistra che pensa che si debba aumentare le tasse. Io penso che questo possa valere negli Stati Uniti. Se lo fa Obama o Biden li capisco ma da noi le tasse sono troppo alte e mi permetta di dire una redistribuzione dice Letta. No, no, no. Vabbè comunque ferma lì. Lei guardi i dati. Quando si inizia a dire che si aumentano le tasse è come quello che dice ridistribuisco l'IVA perché aumento l'IVA e poi la ridò agli altri. È tutto ridistribuire. Ragazzi le tasse o si aumentano o si diminuiscono. Perché questo giochino del ridistribuisco fa ridere colli. mi legga la sua agenda di oggi perché l'ultima volta che venne da me mi sono fatta due conti vengo citata in mille pezzi perché si disse cosa fa Renzi il 23 di dicembre di dicembre Renzi la mattina va dalla Merlino subito dopo va a Rebibbia a incontrare Verdini e poi si ferma sull'autogrill a fare la chiacchierata con Mancini che è l'agente segreto più chiacchierato d'Italia. Mancini l'agente segreto non Mancini il commissario tecnico nazionale perché continua a dire Mancini è Conte Eccone là Siete voi Allora oggi Milia che fa perché io mi preparo? Allora intanto sono già venuto un'altra volta mi dispiace che quando la incontro lei se ne dimentichi così frequentemente e non me l'aveva chiesto Non è vero anzi io amo fare le interviste con lei lo sa Battuta a parte Torno a quella vicenda e poi le parlo della vicenda dei servizi segreti molti mi hanno accusato perché da parlamentare sono andato nei giorni di Natale in carcere io la trovo un atto di civiltà sono andato anche a salutare un amico sì perché per me gli amici rimangono tali anche quando sbagliano anche quando sono condannati e quelli che chiudono gli occhi i rapporti i muri quando non interessano più non sono degli amici sono delle persone che hanno un interesse io credo che l'amicizia si veda anche e soprattutto nei momenti di difficoltà Chiuso a parlare di più che ogni volta che lei incontraverdi lì si dice ecco dove si capiscono i due Mattei grazie al suo ho fatto l'ultima querela che ho fatto è perché un giornale ha scritto non dirò vabbè lo posso dire anche il fatto quotidiano è stato sempre loro ha scritto che io ho fatto una cena con Salvini a casa di Verdini nel 2019 non ho mai incontrato Matteo Salvini a casa di Verdini l'ho incontrato Marco Mancini è un signore che le dico sono cose importanti perché quando Salvini era potente nessuno andava in televisione contro di lui rispetto anche a Salvini così chiudiamo anche questa cosa quando Zingaretti voleva fare l'accordo con Salvini per andare a votare l'unico che ci ha messo la faccia per bloccare le elezioni che voleva dire Salvini a Palazzo Chigi è stato sottoscritto quando c'era da andare in tv che nessuno trovava il coraggio di andare in tv ci andavo io da Vespa contro sono tutti bravi sono il coraggio del giorno dopo che succede che questo signore Marco Mancini dirigente del DIS insomma dirigente importante dei servizi segreti super chiacchierato perché è stato al centro dei due scandali dei servizi Casa Buomar e lo scandalo Telecom Sismi si contra in un autogrill il metri di dicembre con Matteo Renzi dopo quella cosa Marco Mancini viene gentilmente accompagnato a un prepensionamento articolo di tutti i giornali dicono è stato praticamente allontanato perché è ancora Torenzi è stato troppo imprudente e questo signore per dirlo a chi ci ascolta a casa che mai non lo conosce viene definito da Carlo Bonini che uno che ne sa la spia pretta portè che sussurrava all'orecchio dei politici dice che sono praticamente 25 anni che tutte le questioni di rapporti con la politica le gestisce lui 40 minuti a un autogrill ma di che avete parlato me lo dica chiaramente così chiudiamo la vicenda per tutti quelli che sono interessati a capire di che cosa si è discusso c'è sul mio canale youtube un'intervista di un'ora fatta a quelli di report che hanno trovato il famoso scoop poi scopriremo che scoop ma i babbi di cioccolato tutto quello è goloso lei però un'ora non se l'è vista quell'intervista se se la vede vede che c'è tutta la risposta nel dettaglio mi dispiace per lui dopodiché mi faccia dire una cosa su questo perché stiamo veramente alle barzellette quel signore lì è un dirigente dello Stato che lavora per un'amministrazione statale e che incontra nello stesso periodo il sottoscritto Luigi Di Maio Matteo Salvini Giuseppe Conte ma non è un autogrill però auma auma ma che è auma 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 Berlino ma auma auma si fa negli appartamenti a Roma non si fa nell'autogrill in modo libero siccome io ero venuto da lei era andato da Verdini e stavo tornando a casa di corsa perché ero in ritardo e avevamo come dire il primo momento in cui ci vedevamo in famiglia e ho chiesto guardi io non riesco a rientrare se vuol venire viene lei a parlare con me all'autogrill attenzione però perché qui c'è dietro qualcosa sotto uno non è chiaro la dinamica di questa vicenda due io non ho nulla da nascondere a me se lei mi dice di vedere io la vedo in autogrill al campo da tennis si fermi la pubblicità perché l'ultimo al volo terzo punto sta storia la mettono in campo quelli che dicono che c'è stato un complotto ma di che io ero venuto da lei dalla Merlino a dire voglio mandare a casa Conte se non cambia la stessa cosa l'ho detto a un agente di servizio l'ho detto ai cittadini che guardano la prova che non sono il complotto sono io la voglio dire a tutti pubblicità e torniamo subito con Matteo Renzi un complotto l'abbiamo fatto la Berlino di nascosto allora la vede questa foto questa è la supercoppa che ha vinto la Juve contro il Napoli ha festeggiato in campo allo stato di Reggio Emilia proprio la Juve mi dovete far vedere proprio la Juve la Fiorentina non ha vinto molto rimetta Mancini Babbi e Laufogrill che è meglio adesso allora arrivo all'Arabbia Saudita che è l'altra sua passione insieme ai Babbi aspetta che succede che questa roba qui la prossima volta verrà festeggiata in Arabia Saudita perché lì si giocherà perché Juventus-Inter la finale la finale sarà Juventus che ha vinto quindi mi spieghi un attimo se ci va Renzi in Arabia Saudita tutti sono arrabbiatissimi con l'etico come deve smettere di fare politica se ci va il calcio Pecuniano-Nolet io penso che vabbè la partita sarà Juventus-Inter la Juve perché ha vinto la Coppa Italia e l'Inter perché ha vinto lo Scudetto dopodiché io sono l'Arabbia Saudita è un paese che sta cambiando moltissimo e vedrete nei prossimi anni che sarà una rivoluzione vera importante anche sul campo ma non un rinascimento per approfondirlo qui una cosa io sono abituato che quando faccio una cosa io c'è polemica quando la fanno gli altri sono tutti contenti se io incontro Mancini c'è polemica se lo incontrano gli altri tutti zitti idem per l'estero o per altro sa come si risponde in questi casi con un gigantesco sorriso e con l'assoluta tranquillità il Talmud dice che la migliore vendetta è vivere bene io vivo di un bene e da quando ci entraghi vivo ancora meglio quindi lei continua a fare politica perché ripristina la calenda mi ha detto l'altro giorno fa l'uomo d'affari ormai Renzi no non fa l'uomo d'affari posso dire tutto quello che credono tutti quelli che mi dicono che io non conto più niente che non faccio più politica è tre anni che sono costretto a cambiare governo perché non conto più niente si immagini se per caso io avessi contato qualcosa va bene il finale è molto renziano onestamente meglio così ci vediamo domani mattina grazie a tutti voi scusate il ritardo ma c'è la Renzi e poi domani ci copriano mia figlia auguri mambo italiano grazie a tutti grazie a tutti